ciao ciao a tutti bentornati sul mio sbrillo cicoso canale oggi è arrivato il momento del tutorial del secondo progetto del calendario dell'avvento di perline firman co quindi un progetto dedicato alle ragazze che hanno acquistato il calendario dell'avvento di perline firman co ma la visione del tutorial ovviamente è riservata a tutti quanti voi che seguite il mio canale quindi ora vi presento subito il protagonista del tutorial che andremo a realizzare oggi insieme eccolo qua il bracciale delle feste così ho chiamato questo sbrillucicoso bracciale guardate che meraviglia è realizzato semplicemente incassonando degli scettone da 8 mm ma ovviamente la lavorazione serata perfettamente anche agli ss 39 e ho poi completato la lunghezza del bracciale con questa fascetta fatta alla mia maniera e quindi vedremo insieme come realizzare appunto questo bellissimo bracciale ovviamente nulla vi vieta di procedere è la lavorazione tutta quanta con gli scia torne e poi uniti come vedete nel video in modo semplice semplice sicuramente molto bello anche da realizzare con chat on multicolor perché ovviamente servendone tanti magari non ne avete tutti dello stesso colore però sicuramente si presta benissimo anche ad una lavorazione multicolor ora vi faccio vedere altre idee legate a questa lavorazione che ho appunto realizzato per fare una parura quindi con la stessa lavorazione potremmo andare a realizzare pensate guardate che meraviglia gli orecchini in questo caso ho messo tre pendenti sono uniti esattamente come uniremo il bracciale qua ho poi inglobato il perno di quelli a coppetta nella 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 prima incassonatura in modo che appunto come potete vedere qua abbiamo direttamente il perno nella lavorazione ecco e ovviamente nulla ci vieta di realizzare per completare la parura delle feste anche l'anello guardate ve lo faccio vedere indossato guardate che meraviglia un piccolo punto luce è veramente molto grazioso e poi sicuramente un'altra idea che vi voglio dare che adesso non ho avuto il tempo di realizzare ma a questa parur si può abbinare anche il ciondolino fatto o con uno o addirittura con tutti e tre questi pendenti con una semplice catenella fine le idee sono veramente tante da sfruttare per realizzare veramente un'intera meravigliosa a parur come potete vedere io quindi spero appunto di darvi buoni spunti con questa lavorazione oggi realizzeremo insieme una una versione che ora vi mostro subito che mi piace tantissimo eccola qua il bracciale delle feste in versione natalosa guardate che meraviglia io lo trovo davvero adorabile quindi non mi rimane altro che darvi l'appuntamento subito dopo con l'elenco dei materiali e poi il tutorial buon tutorial per realizzare il nostro bracciale delle feste abbiamo bisogno di questi pochi semplici materiali ci serviranno i protagonisti ovvero gli chaton da 8 mm questi sono chaton della qualità superiore e sono la colorazione royal red ci serviranno poi le rocai della miuki 11 0 e 15 0 per le ragazze del calendario dell'avvento le 15 0 di questo bel rosso l'avete trovata nella bustina numero 6 ci serviranno poi un moschettone gli anellini come filo io sto utilizzando il fire line da 0 12 e come ago il pony da 10 iniziamo quindi ora con il tutorial come prima cosa dobbiamo incassonare il nostro chaton al peyote con le rocaille e per farlo io utilizzo la mia regola del per 2 più 4 ovvero la misura dello chaton o del rivoli la moltiplico per 2 e aggiungo 4 ottengo così numero di rocaille di base con cui partire per incassonare il nostro chaton in questo caso abbiamo uno chaton da 8 mm moltiplico per 2 fa 16 più 4 fa 20 e 20 il numero di rocaille che ho messo sul filo per iniziare la nostra incassonatura allora a questo punto dobbiamo chiudere a cerchio quindi per chiudere a cerchio dispongo così le perline e come al solito rientro in senso opposto dalla prima perlina ecco qua tiro e forno così questo cerchio cammino fra le perline fino a farmi combaciare con l'altro filo e dopo farò il nodino ed ecco che dopo aver raggiunto l'altro capo del filo ho poi fatto un paio di nodini ho tagliato il filo d'eccesso ho camminato un po tra le perline per nascondere il nodino all'interno delle perline e ora sono pronta per iniziare il mio giro al peyote allora metto sul lago una rocaille 11 0 ovviamente sto uscendo da una rocaille 11 0 qualsiasi ne salto una di base e mi inserisco in quella successiva praticamente andiamo a incassonare al peyote come come conosciamo è soltanto un formato più piccolo tiro il filo e posiziono così la perlina ancora una rocaille 11 0 salto una rocaille di base e farò questo passaggio per tutto quanto il giro sto per inserire l'ultima perlina di questo primo giro al peyote ecco qua alla rocaille tiro il filo e così ho terminato il primo giro per continuare devo salire attraverso la prima perlina che abbiamo inserito in questo giro e quindi faccio quello che si chiama in gergo lo step up a questo punto sono pronta per cominciare il prossimo giro come vedete gli spazi sono ben definiti quindi dovrò inserire una rocaille 11 0 in ogni spazio che si è creato quindi sto uscendo dalla 11 0 qua vado a inserirmi nella 11 0 che vedete qua che sporge ancora una rocaille 11 0 sul lago e mi vado ad inserire nella rocaille successiva farò questo passaggio per tutto quanto il giro ed ecco che sto per terminare anche questo giro mi vado ad inserire nella rocaille che ho davanti e passo direttamente se riesco anche in quella successiva faccio direttamente lo step up ecco qua così sono pronta per iniziare il prossimo giro tiro il filo e ora dobbiamo fare un altro giro come avete potuto vedere durante il primo giro abbiamo formato tre riga e peyote abbiamo poi fatto il quarto giro ora dobbiamo iniziare il quinto che sarà l'ultimo con le rocaille 11 0 allora sto uscendo come di consueto da una rocaille che è la prima che ho inserito nel giro precedente mi vado ad inserire nella rocaille che sporge successiva farò questo passaggio per tutto quanto il giro mi raccomando tirate bene durante questo ultimo giro delle con le 11 0 sto inserendo l'ultima a rocaille 11 0 di questo giro come vedete sono già passata nella perlina sporgente successiva e ho fatto già direttamente con lago il passaggio alla perlina superiore quindi lo step up tiro il filo e come vedete si sarà formata la nostra coppetta che ora andremo a stringere con le rocaille 15 0 prima però inseriamo all'interno lo chaton ecco qua sono quindi già pronta per iniziare il mio giro con le 15 0 inserisco quindi una 15 0 sul lago e semplicemente teniamo stretto lo chaton in modo che non ci scappa sto uscendo da una rocaille come vedete da 11 0 inserisco la 15 sul lago e mi vado a inserire con lago nella rocaille 11 0 sporgente successiva eccola qua tiro il filo e posizionerò così la rocaille 15 0 dovrò fare questo giro di restringimento per tutto quanto il giro sto inserendo l'ultima rocaille 15 0 come vedete sono passata nella rocaille 11 sporgente successiva sono passata direttamente anche nella 15 0 l'inizio giro ma solo per far sì che il nostro filo venga tirato per bene perché a questo punto la nostra incassonatura è come potete vedere è terminata a questo punto dobbiamo incassonare altri chaton quanti ne desideriamo per la realizzazione del nostro bracciale io ho deciso di realizzarlo con 6 chaton quindi procedo e incastono i prossimi 5 chaton e poi vi faccio vedere come congiungere gli chaton e come completare il bracciale ecco che ho realizzato alle 6 incassonature incassato gli chaton come avete visto per il primo ripetete ovviamente per tutti gli altri a questo punto devo congiungere come prima cosa e 6 le sei incassonature allora per farlo prende il modulino che abbiamo realizzato insieme come vedete avevo lasciato il filo lungo proprio perché da qui riparto per fare il resto della lavorazione allora mi sono portata ad uscire dalla perlina centrale come potete vedere dell'incassonatura eccola qua e per unire i modulini allora inserisco una rock a il 11 0 sul lago prendo uno dei modulini e vado a cercare la centrale chiaramente tonda quindi in questo momento basta qualsiasi perlina centrale dopo ovviamente dovremmo stare attenti mano a mano che andiamo avanti perché dovrà essere quella centrale speculare allora ecco qua avvicino la lavorazione e prendo una rock a il 11 0 sul lago vado praticamente ad inserirmi nella rock a il 11 0 di partenza del dello chaton di partenza tiro il filo posiziono bene la lavorazione ed ecco qua che gli chaton si sono avvicinati adesso faccio un giro di rinforzo anche due fra le perline in modo che si si stringe perfettamente e poi mi porto ad uscire dalla perlina speculare come vi dicevo adesso bisogna fare attenzione che sia quella speculare centrale quindi rispetto a quella di partenza qua in alto facciamo giro di rinforzo ci vediamo dopo per continuare ed ecco che dopo aver fatto un paio di giri a vuoto fra le perline di congiunzione la lavorazione adesso è bella a salda ora come vi dicevo bisogna portarci ad uscire dalla perlina centrale speculare da quella di partenza per congiungere gli altri modulini mi raccomando di passare attraverso le perline in modo a zigzag in modo da non adesso vi faccio vedere praticamente passate in questo modo a zigzag così su e giù fra le perline in modo che così non si vede il filo adesso vi ho fatto vedere appunto l'esempio andate così fino a raggiungere la perlina centrale appunto da questa parte peronate il dito ma è il filo che ovviamente macchia ci vediamo quando abbiamo raggiunto l'estremità da questa parte ho raggiunto la perlina centrale speculare come potete vedere da qua parto per congiungere il prossimo chat on e lo farò nello stesso modo ve lo faccio vedere un'altra volta ma ovviamente sarà sempre la stessa lavorazione allora inserisco una locale 11 sul lago vado ad inserirmi in una centrale dello chaton che devo congiungere lo avvicino prendo un'altra locale 11 sul lago che vado ad entrare in senso opposto nella perlina d'inizio scusate ecco qua anche questo chaton l'abbiamo avvicinato come prima dovrò fare un paio di giri per rinforzare la congiunzione poi mi dovrò riportare da questo lato per congiungere il prossimo e così via fino a che avrò congiunto tutti quanti gli chat on ed ecco che ho congiunto tutti e sei modulini guardate che meraviglia ovviamente sarete liberissime di andare avanti di incastonare altri chatone di fare l'intero bracciale con gli chatoni incastonati oppure come in questo caso io mi fermo qui e proseguo a fare la fascetta allora per farla mi sono portata di nuovo ad uscire da una rocca al centrale qua come abbiamo fatto anche il punto dove abbiamo congiunto anche modulini ecco vedete la rocca al centrale qua a metà dei giri proprio a metà speculare a tutti gli altri collegamenti diciamo a questo punto inserisco sul lago 3 rocca il 11 0 e semplicemente mi vado a inserire nel senso opposto dalla perlina di inizio tiro il filo faccio un giro vuoto fra tutte le perline ecco qua ripasso anche nella perlina di base posiziona le perline ed ecco che si sarà formato questo triangolino ora salvo attraverso le prime due giro lavoro per comodità ecco qua prendo anche la seconda tiro il filo e di nuovo inserisco sul lago 3 troca il 11 0 eccole qua e mi vado ad inserire con lago nel verso opposto della rocca il di partenza questa qua sto uscendo come vedete il filo dall'altra parte mi inserisco nel verso opposto tiro il filo e avrò formato questo secondo triangolino anche in questo caso vado a rinforzarlo quindi passo attraverso le rocca il 100 attraverso tutto il triangolino passo attraverso la rocca il di partenza questa qua poi risalgo attraverso le due per poter riuscire nuovamente in punta nella seconda praticamente del triangolino la punta dovrò fare questo inserimento quindi le tre rocca il che formano questo triangolino fino a che sarà necessario considerando che andrà fatto anche dall'altra parte quindi dovremo fare un pezzo di fascetta da questa parte un pezzo da quest'altra io per la misura che necessita me decido di fare 12 di questi triangolini mi raccomando ogni volta che inserite le tre rocca il di passare anche un giro vuoto come abbiamo fatto per questi due ci vediamo alla fine di questi 12 triangolini ho realizzato i 12 triangolini che sono la base della nostra fascetta a questo punto inserisco sul lago 4 rocca il 11 0 ecco qua e mi vado ad inserire ancora una volta nel verso opposto della rocca il di partenza quindi questa quali punta del triangolino da dove siamo appunto usciti questo modulino diverso fungerà da capietto ovvero dove andremo mettere l'anellina poi moschettone faccio un giro di rinforzo tiro il filo e vado a inserirmi anche nella rocca il centrale ecco qua che abbiamo formato anche il capietto per procedere ora devo inserirmi nella rocca il che mi trovo qua subito a fianco sta qua sporgente attenzione non impiegliare il filo ecco così a questo punto inserisco sul lago una rocca il 11 0 e mi devo andare inserire nella rocca il successiva ecco posizionerò praticamente nello spazio la loca il ancora una rocca il 11 0 e passo attraverso appunto la rocca il successiva tirando il filo e andando così a formare la fascetta faccio questo passaggio fino alla fine della fascetta poi faremo insieme all'altro lato sto inserendo le ultime per linee di questo lato ecco qua inserisco nella rocca è successiva non vi preoccupate se vi sembra un po strano il lavoro si pareggerà con il giro che faremo dall'altro lato a questo punto inserisco una rocca il 11 0 ancora e mi vado inserire anche dalla rocca è qua centrale quella di partenza della fascetta per completare questo giro tiro e come vedete anche questa ecco qua tenete un po la lavorazione in tensione però appunto come vi dicevo dopo si sistemerà tutto vedrete a questo punto sono pronta per iniziare il giro dall'altro lato quindi inserisco sul lago una rocca il 11 e mi vado ad inserire nella prima che trovo qua tiro il filo e procedo come abbiamo fatto nell'altro lato inserendo in ogni spazio una rocca il 11 0 ecco qua fate questo fino alla fine del giro ecco che siamo arrivati quasi alla fine della fascetta come vedete la lavorazione rimane bella lineare sto inserendo le ultime rocca il allora mi vado ad inserire nella rocca è successiva e a questo punto siamo arrivati qua alla fine mi congiungo con il cappietto nello stesso modo quindi vado ad inserire una rocca il 11 0 e passo anche attraverso il cappietto in modo che non ci saranno proprio per niente spazi l'unico spazio che rimane questo appunto da questo lato che andremo riempire in questo momento quindi scendo attraverso il cappietto e inserisco un euro kyle e poi andarmi ad inserire ancora nelle locali successive posso anche cominciare a camminare tra le perline vi dicevo che possiamo cominciare a attraversare le perline perché ora quello che ci rimane da fare da questo lato è fare un giro vuoto fra tutte le perline esterne di un lato e dell'altro della fascetta proprio per rinforzarla ancora di più ci vediamo alla fine del di questo rinforzo ecco che dopo aver rinforzato entrambi i lati della nostra fascetta ora come potete vedere bella rigida e compatta bella lineare a questo punto da questo lato possiamo chiudere il lavoro se abbiamo sufficiente filo possiamo procedere andare a portarci nella posizione iniziale dell'altro lato della fascetta ovvero la perlina che troviamo centrale da questo lato questa e altrimenti chiudiamo appunto qua la lavorazione da questo lato e possiamo andare ad agganciare un altro filo l'ideale sarebbe che magari in uno degli chaton fate come abbiamo fatto nel tutorial un filo più lungo in modo che possiate già avere agganciato un filo per iniziare questo lato in questo caso andiamo ad agganciare un filo nuovo quindi magari ve lo faccio vedere così insomma anche le principianti possono fare serenamente diciamo questa semplice operazione ci vediamo appunto preparo il filo ci vediamo per l'aggancio vi mostro quindi ora come agganciare il filo un filo nuovo da questo lato allora come sempre dobbiamo andare a cercare la rocca al d'inizio che è quella speculare la centrale speculare a tutte le altre quella di congiunzione quella d'inizio della fascetta dell'altro lato che è questa eccola qua quindi mi inserisco direttamente con lago qua tira un pochino al filo e ora attraverso a zig zag anche un'altra perlina e a questo punto fermo il filo in che modo come se dovessimo chiuderlo vero passo sotto nel filo del lavoro creo la solina io ho creato proprio piccola ci passa attraverso con lago tiro faccio questa operazione un'altra volta la solina meno male che lago è flessibile vanno a inserirmi nella solina tiro bene il filo e vado a nascondere il nodo tra le perline quindi tiro sempre a zig zag mi raccomando quando lavorate a vuoto e questo è il filo la colina che possiamo tagliare mentre da questo lato come potete vedere siamo pronti per partire con il giro esattamente come l'abbiamo fatto da questo lato quindi vi basterà rimandare indietro il video inutile che ve lo faccio rivedere perché la lavorazione è proprio identica rimandare indietro il video al punto in cui si inizia con le prime tre perline messe a triangolo le metteremo anche da questo lato faremo di nuovo i 12 triangolini dopodiché scenderemo con le locale 11 0 da un lato dall'altro faremo i giri di rinforzo e così il bracciale sarà poi terminato ci vediamo alla fine di questo procedimento ed ecco che dopo aver realizzato la fascetta dall'altro lato esattamente come quella che abbiamo realizzato insieme ho poi inserito le anelline del moschettone a questo punto il nostro bracciale è terminato il bracciale delle feste io spero che questo tutorial vi piaccia a me piace veramente tantissimo anche l'idea che vi ho dato in apertura su come utilizzare questa lavorazione per realizzare un'intera parour quindi la parour delle feste spero di vedere tante vostre versioni realizzate vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo alla prossima ciao